Allora ragazzi andiamo a scoprirlo insieme, sigla! Ciao a tutti ragazzi, buongiorno, ben ritrovati sul canale, io per chi non mi conoscesse ancora mi chiamo Roby, all'interno del canale parliamo di profumi, se ancora non l'hai fatto come al solito ti chiedo la cortesia di iscriverti, attiva la campanella che rimane sempre aggiornato su tutte le novità del canale e anche del mio e-shop personale, ti lascio qui in alto l'indirizzo internet. Allora ragazzi siamo arrivati alla prova del 9 perché prima che finiscano tutti ovviamente io non posso, dovete perdonarmi, non sentire quantomeno di che profumo parliamo, di che profumo si tratta, ma soprattutto quello che voglio fare oggi sul suggerimento di Silvio è anche un confronto diretto con il Camra precedente, insomma chiamiamolo così per comodità ovviamente. Allora noi qui abbiamo a che fare con Camra Kawa, Kawa in buona sostanza abbiamo scoperto che significa caffè. Come al solito adesso andiamo ad analizzare un attimo il packaging che è pressoché identico alla precedente versione di Camra, cambia un po' solo ed esclusivamente il colore, si apre sempre dall'alto verso il basso, c'è la stessa identica scatola di appoggio che è pressoché uguale al Camra precedente ma cambia solo ed esclusivamente il colore. All'interno abbiamo la boccetta di profumo che è pressoché identica, facciamo già un primo confronto con Camra. Allora l'unica differenza che noto fin dall'inizio è il colore però è un colore decisamente un po' più scuro, un po' più ambrato di Kawa. Allora come al solito facciamo prima una cosa, andiamo ad analizzare nel dettaglio quelle che sono le note presenti all'interno dei due profumi guardando insieme qui le schede in sovrimpressione. Allora ragazzi partiamo da Camra, Camra le note di testa sono cannella, noce moscata e bergamotto, nel cuore abbiamo datteri, pralina tuberosa e maional, nella base è la base, vaniglia, fava tonka, benzoino, amberwood, mirra e akigala wood. Mentre invece per quanto riguarda Camra, Kawa, il profumo ha delle note di testa che sono cardamomo, zenzero e cannella, nel cuore pralina, frutta candita e fiori bianchi, la base è presente caffè, vaniglia, benzoino, muschio e fava tonka. Prima di procedere con la nostra analisi su Camra, Kawa, vi ricordo la promozione sulle shop, fino al 21 continua il meno 20% su tutto, in più ho aggiunto anche che oltre ai 100 euro di spesa ci sono 10 campioncini da 2 ml in omaggio. Allora partiamo con sentire quelle che sono le prime impressioni su questo profumo, vediamo prima di tutto l'erogatore, direi pressoché simile al vecchio Camra, non cambia assolutamente nulla, sono identici, cambia assolutamente nulla. Allora vediamo sulla Moyet, quali sono le prime impressioni? Allora, in apertura la prima impressione che ho, vado per comodità a riprendere anche l'altro, mi danno l'idea di essere due profumi completamente diversi. Camra decisamente più dolce, Kawa decisamente un po' più fresco, un po' più delicato, un po' più secco rispetto a Camra. Nelle note abbiamo visto che comunque un po' sparse qua e là rispetto a prima qualcosa di simile è rimasto, come somiglianza diciamo che la differenza sostanziale l'abbiamo dettata da un bergamotto e dal caffè qua. Tutto sommato ecco diciamo che le differenze sostanziali sono queste. Allora il profumo inizialmente mi piace, mi piace tantissimo, ricorda vagamente il vecchio Camra, ma questo sicuramente è un profumo direi almeno adesso in apertura decisamente decisamente diverso al mio naso rispetto a quello precedente. Allora come al solito ragazzi facciamo una cosa, io vado ad indossarlo, vado ad indossarlo sempre a modo mio, ecco in questo momento sento comunque molto presente una parte speziata del profumo, il profumo sulla pelle, una leggerissima nota alcolica in apertura ma ma direi che viene fuori subito immediatamente questo caffè che è ben presente ed è un caffè davvero davvero interessante e mi ricorda quasi il caffè della moca. Allora ragazzi bando alle ciance, una piccola pausa per voi, io mi assento per un po' e ci rivediamo tra poco per le considerazioni finali. Ragazzi rieccomi rientrato dopo una breve pausa ve lo dico, non è una pausa diciamo tradizionale che utilizzo con gli altri profumi ma anche perché qui ho capito fin da subito che non ce n'è assolutamente alcun bisogno di far passare del tempo per capire che cosa mi ha dato come impressioni questo profumo. Io potrei stare qua a spiegarvi per ore le differenze che ci sono rispetto a Camra, soprattutto in apertura, un'apertura più fresca, il profumo è decisamente meno dolce rispetto a Camra, l'apertura, la differenza tra Camra Cawa che ha lo zenzero e l'altro che ha il bergamotto. Io anche in questo una punta di bergamotto ce la sento, infatti nello spezzone precedente ho sbagliato tra virgolette a riprendere un po' l'apertura di zenzero dicendo bergamotto ma proprio perché io il bergamotto qua lo sento lo sento abbastanza bene in in apertura è il mio naso ragazzi è perché voi come sapete che mi conoscete io con il bergamotto vado in tilt ma vi ripeto differenze ce ne sono dal punto di vista che per cercare di rendervela breve il più comprensibile possibile. Camra è un unisex tendente un po' più verso l'universo femminile, Cawa secondo me tende un po' di più sull'universo maschile, spezie ci sono, la parte dolce di pralina di quella che viene chiamata frutta candita che non è nient'altro che anche qua il dattero piuttosto che la vaniglia sono presenti ma non sono presenti con l'intensità rispetto a Camra alla precedente versione però ragazzi questo qui è un profumo che come prestazioni è pressoché identico a Camra quindi durata, persistenza, proiezione sono da top profumo dal mio punto di vista ma ripeto potrei star qua a spiegarvi a cercare di trasferirvi per ore quelle che sono le sensazioni su questo profumo quando l'unica cosa da fare con questo profumo con questo profumo qua va vissuto cioè questo è un profumo che non può in alcun modo mancare questo in assoluto secondo me è un capolavoro ragazzi c'è poco c'è poco da dire questo qui è un profumo che io sono uscito mezz'ora e ho incontrato due o tre persone che conosco mi hanno detto che profumo è questo è io l'unica parola che ho per descrivere questo profumo è un vero e proprio capolavoro la tafa con questo profumo alza l'asticella in maniera prepotente su questo genere quindi con questo tipo di note con questo tipo di io adesso non so se assomiglia o non assomiglia ad angel share anche perché non l'ho sentito ma obiettivamente ragazzi sto perdendo l'interesse totale a capire se questi prodotti assomiglino debbiano per forza assomigliare a qualcos'altro cioè sto imparando ad apprezzarli in una maniera un po un po diversa poi come potete vedere io ormai un po di profumi li ho alcuni sono sotto qua un briciolo di esperienza al di là del marchettaro me la sono fatta qui ragazzi questo qui è un profumo che non si può non avere in collezione questo qui è un profumo perfetto per tutte le occasioni con questo qua ragazzi è impossibile passare in osservati ma in assoluto cioè è un profumo che mi sono quasi pentito di non di non aver aperto fortunatamente poi ho deciso di farlo ma qui ragazzi alza l'asticella la tafa su questo genere qua e diventa in assoluto il punto di riferimento da dover andare a tenere in considerazione per tutti e per tutti per tutti poi ripeto ho perso l'interesse nell'andare a cercare a chi si assomiglia a cosa o a chi perché proprio li sto iniziando ad apprezzare per quello che da per quello che mi danno per quello che mi trasmettono per quelle che sono le sensazioni che sono positive che io ho nel nell'andare a conoscere questo questo genere di profumi per il momento chiuso vi ringrazio come sempre vi aspetto se volete al prossimo video ciao a tutti da Roby a presto